Dopo l'ennesimo incidente stradale all'altezza di Lerchi torna di stretta attualità nella frazione Tifernate attraversata dalla strada regionale 221 di Monterchi la questione della sicurezza stradale con i cittadini e residenti che chiedono maggiori misure e controlli. Beh certo qua il traffico è molto sostenuto soprattutto anche mezzi pesanti durante tutto l'arco della giornata è chiaro un tratto di strada che non si può diciamo eliminare ma sicuramente andrebbe soprattutto riqualificato dal punto di vista magari con dei dossi maggiori controlli questo è un monito che viene sollevato un po' da tutta la cittadinanza qua di Lerchi perché proprio per noi sta diventando veramente un problema insostenibile. Io tempo fa provai a far mettere alla regione i cordoli in mezzo alla strada ma la richiesta non è stata recepita. La presenza di un dosso artificiale uno all'inizio del paese e uno alla fine potrebbe significativamente implementarla la sicurezza. Dovrebbero fare una variante perché qui c'è una strettoia che è pericolosissima anche se hanno messo i segnali però quando si incrociano due camion grossi e ci sono dei problemi quindi sarebbe bene qui fare una variante possibilmente. Tu immagina che qui sorpassano adesso e sorpassano i cammini durante il giorno va. Quindi esiste una questione di sicurezza stradale a Lerchi? Esiste? Perché non esiste niente.